Steph Perché abbiamo fatto questa cosa? Non mi sembra una buona idea Stiamo per bruciare, guarda Le cose vanno a fuoco Bruceremo, bruceremo, Steph Era meglio quando facciamo finta che ci fosse la lava Quando c'è davvero fa più paura, Pere E c'è caldo, c'è tanto caldo Lo so, sto già sudando qui Ma come si può stare? Non lo so, vai a farti un tuffo Addio, Steph, guardami morire No, ma che triste se vai così, Pere Dovevi arrabbiarti Era per farti sentire il colpo, ok? Sei un disgraziato, non gioco più E ragazzi, come va? Io sono Pere Niki E io sono Steph, e che se ci chiama Minecraft Ebbene sì, ebbene sì, oh mio Dio Stiamo bruciando e non riesco neanche a fare l'intra Vai sulla pietra Aiuto, aiuto Mettiti due blocchi di pietra sopra la pietra Ok, ok, ok Calmiamoci un attimo e spieghiamo Perché oggi siamo su Minecraft Abbiamo notato che la challenge The Floor is Lava su GTA Vi è piaciuta davvero tanto E quindi abbiamo pensato di farla Nell'unico gioco In cui la lava si può mettere realmente Quindi fa ancora più paura E mette ancora più stress Capito? E quindi sì Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una custom map Che è semplicemente una cittadina di Minecraft Esatto L'abbiamo riempita di lava qua e là E dopo di che abbiamo deciso di fare una missione Siamo da una parte della città L'obiettivo è arrivare dalla parte opposta della città E cosa abbiamo? Soltanto 64 blocchi di pietra Un piccone con cui possiamo prendere altri blocchi Un'acetta di legno con cui possiamo tagliare della legna Ammazzare del vicenda E del cibo per non morire di fame Quindi l'obiettivo è Con solo questi quattro tipi di oggetti Riuscire ad arrivare dalla porta opposta della città Senza mai toccare terra Valgono ad esempio Stalire sopra delle fence vicino a terra Dei blocchi che sono leggermente sopra terra Lì ci possiamo stare Però non possiamo mai toccare la terra alla base Quindi dobbiamo stare attenti Anche se non c'è la lava Perché magari c'è qualche puntino senza Noi lì non possiamo toccare Allora, detto questo Fere, non puoi lasciare lì subito due blocchi Cioè recuperati i blocchi che hai messo lì Fere Ma quando li sto finendo li recupero? Perché li devo recuperare adesso? Vabbè, io me ne ho Te li ho presi Ciao Ciao Fere Ciao Allora, io devo già stare attento qua a non cadere Ok, vai vai Fere Vai 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 Perché mi mette quest'ansia a costruire? No, non mi piace Non mi piace Perché vedo la lava e vedo il vuoto Dai, che ce la fai? Con calma, con calma Fere, deflorite la lava Vado No, non me ne ero accorta Stef Sai come c'è un freddo qui sopra Si sta benissimo Sono fresco, incredibile Oh mamma mia Ok, allora per arrivare Non mi far cadere Scusa, scusa, scusa Aspetta, mi sposto Allora, se mi uccidi io ti uccido Questa è la regola base Se io muoio tu muori Va bene Fere Anche se dovrebbe essere un gioco di squadra questo No, non lo è Ok Non lo è Ognuno per sé quindi Piano, piano Allora, Stef Dove sarebbe poi di preciso l'altra parte del villaggio? Perché qui è grande Dobbiamo andare tutto dritto Fere Non neanche si vede la fine Ok Ok Però è dritto Uh, Fere Fere Aspetta Ho ragione, aspetta No, no, non me la sento Oddio Salta, su, muoviti Ok Ah, per una volta non abbiamo dovuto fare ponti Ok Allora, io cerco di recuperare qualche materialino Si guarda da qua Fa prendere un pochettino di cose Quindi Eh, mi sa che me le prendo pure io Vai, bucchiamo tutto Facciamo i vandali Dobbiamo salire sul pozzo Ok Quindi creo un piccolo ponte Che ci avvicina al ponte Che ci avvicina alla fontana Scusami E dopodiché saltiamo Quindi Opla Opla Ok Ok, ha funzionato Vieni Sì Guarda come ha paura Mamma mia Mamma mia Perché ho l'auto jump Perché nelle nuove versioni mi sono dimenticata di togliere l'auto jump Non è una buona idea avere l'auto jump Guarda Guarda Salta da solo Salta da solo Fere Dimmi Eh, qui c'era una casa tecnica Sì, lo so E qua c'è Non c'è salire in alto Qua c'è tanta lava Fere Cioè non va bene sta cosa È brutta Lo so però Ti piace questo letto? Vorresti dormirci? Sì Sembra molto Tranquillo Fresco Sì, sì, sì Assolutamente Allora Dobbiamo salire in alto Infatti un attimino concentrati Ragioniamo su dove potremmo andare per salire un po' verso l'alto Ok Eh, perché qua Per sprecare il meno blocchi possibile ovviamente Perché non è una buona idea finirli Non è stata una buona idea scendere in quel pozzo Perché poi qui Allora Allora, aspetta Vieni qua com'è Ok Attenta che qua c'è il vetro che ci potrebbe far cadere Lo spacco per sicurezza Così evitiamo di rischiare Qua guarda Per altri due o tre blocchi è rialzato rispetto al pavimento normale Sì Da qui diventa pavimento normale quindi metto un blocco Ok Ok Dopodiché questo è tutto più alto Quindi facciamo così E iniziamo a scalare questo palazzino Ok ci sto Ok Facciamo così Dopodiché saliamo qua Attenta a non fare le cose mentre le faccio anche io Aspetta che mi sposto No, 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 no Sono solo dietro di te Ok 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 Allora Aspetta, 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 aspetta È troppo pericoloso quel salto Vai così Ok Ti fa anche le stradine Allora Ma per chi vi hai preso? Per chi vi hai preso? Guarda ti metto anche uno qua A tutti gli angoli Così non mi cari all'improvviso come una pera Eh sì Non cado No, tranquilla Sicuro Vai tranquilla Tranquilla Ok Io voglio fare un ponte andare in quello Dove? Quel palazzo tutto di stone Quello? Sì Bel No, mi piace Però sprechiamo davvero tanta pietra Fere Ma lo so Però lì è tutto di pietra Cioè magari ce la recuperiamo Un po' Ok Ok Dai sì Va bene Va bene Va bene Inizio a creare un po' di stradine Mentre recupero anche un po' di blocchi Sì 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 E proviamo ad andarci Sembra una specie di missione per andare tipo a salvare il vaso di Pandora Però in realtà stiamo soltanto giocando Salvando noi stessi A non bruciare con la lava Dobbiamo solo salvare noi stessi Allora Aspetta che qua ti faccio le stradine fatte bene Ma per chi mi prende? Allora Oh bella La città va a fuoco ma noi ci mettiamo qua Esatto Esatto Allora Abbiamo un sacco di cose Ci sono pure i libri Fere vieni 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 Cosa vuoi leggere? Non è il momento Non è il momento lato Cioè c'è una bella lettura Scendiamo da qua piano piano Mettiamo solo due blocchi Ok Ok E poi si salta No sei paura Ui Ok Tutto a posto Tutto a posto Vieni Fere forza Ok Che paura Ma che mi fai fare tutti sti salti Allora Allora Qui vedi ne possiamo recuperare parecchia Perché tanto chi se ne frega se lo distruggiamo Mi sembra giusto Mi sembra giusto E l'unica costruzione è totalmente intatta e noi la distruggiamo Certo Furbissimi Allora stiamo attenti a non distruggerla troppo Cioè prendiamo il necessario E comunque blocchi ne ho ancora parecchie Quindi non è che sto Io ne ho consumato parecchie Per fare tutto quel ponte Certo Un po' li ho dovuti sprecare Allora uso anche un po' l'ascia Ovviamente Però aspetta 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 Non distruggere troppo Dobbiamo distruggere Però allo stesso tempo cercare di salire al piano di sopra Ah vuoi salire ancora più in alto Sì Guarda poi ci sono delle scalette Vieni Vai 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 Aspetta aspetta Volevo dire che ovviamente se consumiamo tutto il piccone e tutta l'ascia È finita Non possiamo più prendere blocchi Quindi abbiamo una sorta di limite sotto quel punto di vista Vai Ferre vai Ferre sali sali Perché ci si incastra? Perché qua Ok ce l'ho fatta C'era del vetro che dava fastidio Ok Ok apri Anche l'altro ok Vai Ecco 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 Perché così abbiamo una visione migliore Capiamo anche verso Ok Qui ce la facciamo con un salto Sì 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 Qua siamo Oddio no 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 Ferre aspetta 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 Ti metto almeno Facciamo È stato un po' al limite Rischioso Sì mi sembrava un po' più facile Mi è venuto un attimo un infarto Ho detto ho già finito Ho già finita l'avventura di Steph E invece per fortuna sono anterrato Vai puoi saltare Posso andare Ovviamente con shift eh Certo certo No dai Giusti giusti ci si arrivava Giusti giusti Ferre Cos'è il rumore Ferre Steph che succede? Non ho idea Chi è? Non lo so Ferre C'è qualcuno Ho paura C'è qualcuno Sto provo a qualcuno che è avanti Magari qualcuno che è sopravvissuto Aspetta Cosa? C'è qualcuno dentro la casa o no? Non lo so non credo Non lo so inquietante Vabbè Vabbè Allora scegliamo la strada Possiamo o creare un ponte ed entrare dentro questa casa Oppure possiamo muoverci verso la destra perché così possiamo fare due case senza sprecare e diciamo materiali Eh ok però poi i palazzoni lì sono alti eh No perché possiamo sondare del vetro e sfruttare le scale del palazzo Dai dai facciamo così Capito? Vai 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 Ok aspetta Qua per non rischiare ce ne mettiamo così basta? Boh sì Aspetta vado Oddio No sì 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 tranquillissimi Ok vieni 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 Bravissimi bravissimi stiamo andando bene Stiamo andando Come hai potuto farmi questo? Non guardarmi come hai potuto farmi questo? Come? Non sta a fare Come stai? Sono scivolato Cioè mica Io dico allora se si fanno delle morti in questo gioco Si devono fare delle morti che fanno ridere O perlomeno che siano epiche Nel senso che devi fare un salto difficilissimo Sbaglia all'ultimo e muori Non mi puoi fare una morte del genere No non puoi Non puoi rovinare il gioco Posso tornare con te Torna Grazie Però ci vuole una penalità Che dici? Si dimezza qualcosa Non ho più il piccone Ok quindi rimani senza piccone Esatto Esatto Quindi ho tutti i blocchi che ho raccimolato fino ad ora Ma non ho più il piccone Quindi io da ora in poi non posso più prendere nulla Mi sembra abbastanza equo Ovviamente in ogni caso risulterà come se hai vinto prevalentemente Fede E non ho vinto io Vabbè però non è troppo una sfida tra di noi La sfida è riuscire Eh sì però diciamo che Come non lo voglio fare da sola Diciamo che per egoismo ti faccio tornare L'impresa diciamo che l'avrei fatta tu a quel punto Allora vieni qua Forza Attenta a non cadere anche tu Per favore Calma un piccone così ce l'abbiamo Adesso la mia idea è che Noi ci mettiamo in questo blocco Saliamo qua Sondiamo tutto il vetro Ok Entriamo e sfruttiamo le scale che hanno costruito Aspetta Fede Non riusciamo ad abbassarci Ok Ci sono ci sono Perfetto Saliamo tutte le scale E senza praticamente sprecare i blocchi Siamo andati di nuovo in alto Però non possiamo andare nel tetto Hai notato? Ah come? Infatti stavo notando Non me l'aspettavo Questo è un mini problema Però noi stondiamo da qua al vetro Ok Aspetta aspetta Qua Muoviti in control Perché è abbastanza brutta la situazione Ci creiamo un ponte Non fa neanche a saltare Perché non c'è neanche un balconcino In questo qua a fianco Eh lo so lo so Bisogna sprecare un po' di blocchi Puoi distruggere poi quel blocco Che ho messo per sbaglio? Grazie Scusa un attimo Eccomi qua Ok Via Perfetto Come si entra? Ah si entra ok Salta in quel blocco lì di legno Perfetto Ottimo Tanto potevamo anche cadere Che non eravamo No siamo dentro casa Esatto esatto Però cerchiamo di stare sempre nell'alto Nella parte alta Opla Perfetto Stiamo andando un sacco avanti Fere Stiamo andando Wow È tagliato a metà questo tetto Ma perché è bruciato? Non lo so Può essere Che brutto Stavo rischiando di morire Allora questa torre è altissima Facciamo così Guarda che piano mi è venuto in mente Facciamo così Saliamo qua Mettiamo un blocco così qui Bravo Facchiamo questi vetri E abbiamo le scale per salire tutta questa torre Mi piace Che bello Ok siamo In altissimo Siamo in altissimo Fere Ok Arriva 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 Io non ti ho mai detto qual era la nostra missione È vero? Perché se tu guardi Siamo già alla torre che delimita la fine Perché vedi Quella lì è un'altra parte della città Che non è stata colpita dalla lava Ok Però noi dobbiamo andare da questa parte Esatto Questa dove sei tu Ok Andare tutto in fondo C'è un campo Dove stanno coltivando del grano Della canna da zucchero E delle zucche Dei meloni Tutte le cose classiche Dobbiamo andare in ogni campo E recuperare un ortaggio Perché poi non sono tutti ortaggi Da ogni coltivazione Perché? Quindi una zucca Uno di grano Uno di zucchero Perché? Per diciamo Cioè è abbastanza difficile sopravvivere Allora tu mi metti Allora è presente quando Si fa la barca con tutti gli animali Per salvare tutte le specie? Noi salviamo gli ortaggi Noi salviamo gli ortaggi Ragazzi Fede Mettila Quindi è una missione importantissima Perché sei tornato Perché altrimenti Non ci sarà mai più nulla Io ti putto giù Ti ammazzo No qua creo un ponte Ok Ok Da qui direi che possiamo già saltare Per fortuna che non ha preso fuoco Sta casetta Altrimenti sarebbe stata Decisamente più difficile Eh sì 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 Eh però infatti quest'altra ha bruciato Eh ha bruciato in buona parte Questa è una follia Io voglio mettere un blocco qua Fede di nuovo con il rumore strano Senti Ma ti sembra Non lo so Una sorta di campana Non lo so Non ho idea Però è davvero strano Hai visto dove ho saltato? No non lo voglio fare Dai Forza devi avere un po' di coraggio Siamo quasi alla fine Sì Bravissima Ok adesso devo creare un ponticello Basso basso Per arrivare fino Esatto Al primo campo di ortaggi Che è quello delle zucche Fere se ti può interessare Ah ok Molto importante Grazie non mi interessava Però va bene Allora Mi sono rimasti solo 20 blocchi Oh mamma mia Vabbè io ne ho tanti E quindi poi ci scambiamo E faccio i miei percorsi Però è brutta come cosa Ok qua possiamo ovviamente camminare Vieni Ah Finalmente Prendi una zucca Fere Prendi una zucca Dovevo prendere le zucche? Sì me ne prendo una anche io Facciamo una testa Dai Ok E una zucca è fatta Perfetto A questo punto ci mancano E lo zucchero che sta da quella parte I meloni che stanno da quella parte Pensavo di star bruciando No è distrutto semplicemente una zucca E dopodiché il grano Ok E abbiamo finito la nostra missione Quindi devo creare un ponticello basso Potrebbero non bastarmi i blocchi Quindi forse a metà mi dovrei dare il cambio Ok In ogni caso inizio a farlo io Allora andiamo Qua è tutto pieno di lava Mamma mia Facciamo Qua è davvero pieno Così Ok Mettiamo anche un blocco qua E siamo nella zona della canna da zucchero Vai prenditi la canna da zucchero Fere Ok Ok vieni qua Ci prendiamo un'angurietta Opla Perfetto Prendene una anche tu Fere Ok Ci manca soltanto Arrivare dall'altra parte Avanza 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 Forza Forza Dai Ma perché mi devi lanciare? Ah ci sono le barbabietole Barbabietola Presa Carota Presa Patate Prese Grano Preso Ok Metto tutto nella stessa barra E direi che è completata la missione Sì ho tutto pure io Ho tutto pure io Ok fammi vedere Opla 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 Zucca Patate Carote Barbabietola Canna da zucchero Anguria E grano Abbiamo tutto E abbiamo completato la missione Fere La diciamo Che bello Che bello Come la chiamiamo questa missione? Salva l'ortaggio? È un po' triste Però sì Bene che se vi riesci così Ci piaccia Ci piaccia Ci piaccia E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.